un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini iniziamo dalla 1 dove adesso ci sono 5 km di coda per un incidente tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna ci sono rallentamenti per curiosi in direzione Roma tra il Bivio con la variante di Valico e Calenzano Sesto Fiorentino sempre in A1 si informa che l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL sulla statale 1 Aurelia a scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto sulla statale 3 Bistiverina a scambio di carreggiata per lavori tra i km 140 e 500 e 142 e 900 nei comuni di Pieve Santo Stefano e San Sepolcro Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze e buon viaggio!